Prima cosa, domani può riaprire tutto il commercio al dettaglio, possono riaprire tutte le botteghe artigiane, i bar, i ristoranti, i pub, le pizzerie possono tornare a lavorare, ospitare i clienti con i limiti che le misure di sicurezza impongono, però non c'è più il fatto di dover mantenere un tavolo distante due metri l'uno dall'altro, qualcuno l'aveva detto anche tre, ma serve almeno un metro di distanza fra una sedia e l'altra sedia, fra una persona e l'altra persona. Un po' meno può essere la distanza se le due persone si danno le spalle. Da domani aprono finalmente anche i parrucchieri, gli estetisti, i barbieri, possiamo finalmente consentire a questo comparto della categoria degli artigiani che io avrei fatto lavorare già dal 4 di maggio di poter rialzare la Sagenesca e aprire il salone. C'è una novità che ritengo utile, la novità è quella che ogni attività può prolungare l'orario di apertura anche fino alle 23.30 e questo per compensare il fatto che in un giorno non possono contemporaneamente entrare 4, 5, 6 clienti che potrebbero, se i locali non lo consentissero, se non fossero ampi, potrebbero determinare l'assembramento che invece va comunque e sempre evitato. Quindi si può restare aperti fino alle 23.30. La domenica teniamo chiusi i centri commerciali, chiusi ancora i supermercati. Stiamo ricevendo tanto apprezzamento da parte dei cittadini, non soltanto da parte delle organizzazioni sindacali, ma anche dei lavoratori di questi esercizi che hanno riscoperto finalmente il piacere e la gioia di stare in famiglia la domenica. Su questo tema naturalmente ci confronteremo nei prossimi giorni, tanto con le organizzazioni di categoria quanto con le organizzazioni sociali, ma ritengo che abbiamo fatto bene a tenere chiusa la domenica e continueremo a fare bene. Dall'8 giugno possono cominciare a lavorare i catering, quindi si può cominciare a pensare alle cerimonie, ai banchetti, ad un'attività che in Sicilia comporta una ricaduta economica particolarmente significativa, il che non significa che fino all'8 giugno le imprese che fanno catering non possono aprire gli uffici e non possono cominciare a organizzarsi, anzi è espressamente detto che consentiamo a questo tipo di imprese di poter prendere i contatti con i clienti, di poter effettuare i sopralluoghi, insomma un paio di settimane di tempo perché l'8 giugno si possa cominciare alla grande. Per gli stabilimenti balneari abbiamo autorizzato già da diverse settimane l'opera di manutenzione, li incontreremo nei prossimi giorni i rappresentanti del sindacato dei Lidi per concordare assieme a loro se preferiscono l'apertura ai primi di giugno o invece alla metà del mese di giugno e naturalmente anche questa attività sarà disciplinata da regole precise che debbono evitare assembramento e non debbono sacrificare le norme di sicurezza. I musei, gli archivi storici, le biblioteche apriranno dal 25 di maggio in poi perché vogliamo consentire per la prossima settimana la possibilità di sanificare i locali e quindi di mettere i direttori nelle condizioni di predisporre il turno, il personale di vigilanza, il gel disinfettante all'ingresso, tutto quello che serve perché in questi locali chiusi lo studioso, chi vuole consultare, lo studente, il professionista, il frequentatore possa andarci e lavorarci in assoluta garanzia per se stesso e per gli altri. Anche per gli spettacoli, per i cinema all'aperto, le famose arene, per i teatri abbiamo pensato alla data dell'8 giugno in modo che si possa avere il tempo per i titolari, per i gestori di potersi organizzare al meglio. Anche nei cinema, nei teatri naturalmente bisogna mantenere gli necessari accorgimenti, voi mi chiederete e le discoteche? Le discoteche diventano un problema perché fanno assembramento, quindi stiamo disciplinando anche questa materia, meglio se fossero discoteche all'aperto, ma in ogni caso questa è un'attività che sarà regolamentata dall'8 giugno in poi, bisogna avere un poco di pazienza perché dobbiamo andare avanti sapendo che tutti conviviamo in questo momento.